Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Tenta il suicidio gettandosi sotto un treno in corsa poi ci ripensa e all'ultimo istante si tira indietro ma resta ferito Il semaforo pedonale alla liscia da un lato è rotto e per attraversare le strisce bisogna chiedere aiuto a quelli della parte opposta Fano sempre più città dei fast food sabato prossimo ne aprirà uno tutto nuovo che darà lavoro a 12 persone Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti dalla redazione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dal nostro sommario in apertura c'è la cronaca per parlarvi di quell'uomo che questa mattina presto all'alba ha deciso di farla finita gettandosi sotto un treno poi però ci ha ripensato e si è tirato indietro rimanendo però ferito è successo intorno alle 7.30 all'altezza di Metauriglia di Fano protagonista un 47enne che ha atteso l'arrivo del treno sui binari per gettarsi sotto all'ultimo momento però ci ha ripensato come dicevamo nel tentativo di evitare di essere travolto è stato colpito di striscio dal locomotore e ha riportato un trauma toracico dopo essere stato trasportato al pronto soccorso del Santa Croce ha subito in mattinato un delicato intervento chirurgico ora si trova ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita il treno con freccia bianca partito alle 6 da Pescare diretto a Milano si è fermato un chilometro e mezzo dopo l'impatto all'altezza di via De Gasperi a Baia Metauro da dove poi è ripartito intorno alle 8.30 tutta la linea ferroviaria è stata bloccata per circa un'ora causando disagio anche agli altri 7 treni coinvolti i quali hanno registrato ritardi tra i 20 e i 60 minuti sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria di Pesaro Cambiamo argomento Ase Tolding ha un nuovo presidente un nuovo consiglio di amministrazione questa mattina l'assemblea dei sindaci dei comuni soci di Ase Tolding ha eletto presidente Susanna Testa segretaria della lista civica Noi Cittasti stipendi ridotti per il consiglio di amministrazione che passa da 5 a 3 componenti tra cui il vicepresidente Teodosio Auspici di Sinistra Unita e Gianluca Cespuglio esponente della lista civica Fano dei quartieri il nuovo CDA restrà in carica fino alla fusione con Aset Spa che più o meno potrebbe avvenire tra 6 oppure 8 mesi al massimo Il sindaco di Fano Massimo Seri sta lavorando per favorire lo sviluppo delle aziende del territorio oggi pomeriggio ha iniziato le sue visite in una società che produce pale eoliche innovative vuole dare la possibilità di creare una sinergia con il pubblico attraverso i fondi strutturali europei guardando al futuro e favorendo lo sviluppo di quelle aziende che fanno ricerca e innovazione per questo il sindaco di Fano Massimo Seri ha deciso di mettere insieme le istituzioni a livello locale e regionale ed aiutare il mercato del territorio questo pomeriggio ha iniziato con una società di bellocchi di Fano nata nel 2011 e che progetta, sviluppa e produce pale eoliche innovative in grado di migliorare l'efficienza degli impianti eolici ad un minore impatto ambientale come sindaco che voglio bene a questo territorio voglio concretamente dare delle opportunità di sviluppo ho cominciato verso questa direzione con un'azienda molto interessante che lavora sull'eolico che ha una prospettiva di mercato internazionale molto importante una tipologia dove si trovano 3-4 aziende in tutta Europa tutte quelle aziende che vogliono fare ricerca che hanno una tipologia veramente di innovazione che può abbracciare nuovi mercati ecco, in quella verso loro noi vogliamo essere utili mettere a disposizione tutte queste opportunità e quindi anche come sindaco mi faccio tramite ecco, sono molto contento perché questa è una dimostrazione di concretezza e di finalità concrete che si vogliono raggiungere una realtà giovane ma molto importante dal punto di vista innovativo e anche per il territorio stesso sicuramente stiamo cercando di valorizzare tutto ciò che avevamo di disponibile sul territorio e di farlo molto crescere tutto ciò che era nautica, tutto ciò che era la capacità di disegnare di ingegnerizzare prodotti, di industrializzarli li stiamo facendo crescere sulla base di una industria completamente nuova che in Italia non c'era, cioè l'eolico l'eolico è stato sempre comprato dall'estero oggi lo possiamo produrre in Italia è una cosa che è cresciuta come un'idea imprenditoriale perché si faceva parchi eolici e si produceva energia eolica e ci si è trasferito sulla tecnologia che è un investimento di molto più lungo termine e che potrà aiutare a crescere una filiera italiana di cui le marche in particolare saranno protagonisti e speriamo di arrivare a un concetto di distretto industriale che secondo me lascerà una traccia sul territorio a beneficio di tutto il territorio Il compito delle istituzioni è anche quello di favorire lo sviluppo delle aziende del territorio? Sicuramente sì, di questi tempi siamo tutti tesi a far sì che le nostre aziende prendano sviluppo facciano sviluppo perché siamo in una condizione in cui il nostro manufatturiero è molto in difficoltà per cui questa azienda che rientra un po' in quello che è la green economy e nel filone che anche la regione Mac che in qualche modo ha incentivato per far sì che si possano incrementare le produzioni in un settore che è in costante sviluppo Questa azienda che è nata da poco già sta dimostrando forti propensioni alla crescita e pertanto le saremo vicini per fare in modo che l'occupazione aumenti anche qua dentro Ed ora ci occupiamo delle vostre segnalazioni Siamo andati alla liscia a vedere quel semaforo che funziona solo da un lato Attraversare la strada sulle strisce pedonali può essere pericoloso ed è importante prestare sempre la massima attenzione Pericolo però che aumenta quando si tratta di una strada nazionale e per di più quando la tastiera per la chiamata del semaforo è rotta Tempo fa ci siamo occupati del malfunzionamento di quello all'altezza di via Cavour Questa volta invece ci siamo spostati di circa un chilometro in quello lato mare antistante alla darsena borghese Da quanto tempo hai rotto il pulsante del semaforo? È un pezzettino Adesso il giorno non glielo so dire però è un pezzettino perché questa strada la faccio spesso Quindi bisogna sempre attendere che lo schiacciano dall'altra parte? Esatto, sì, se no non funziona E se no non si passa? Non si passa, bisogna che aspetti Ultimamente qualcuno si è presentato ma onestamente se no ha sempre funzionato abbastanza bene E se di recente qualche ospite dice che ci fa fatica a attraversare Anche io personalmente attraversavo con la macchina e ho visto un pedone che attraversava con il rossi e ho detto ma come fa? Ah, dice non funziona Tocca aspettare il volto, sì Quindi è un bel disagio? Eh beh, ci vuole pazienza Atteniamo che lo aggiusti? Eh, speriamo Quanto sarà? Questo pomeriggio l'ingegner Corina Direttore dell'Ufficio Mobilità Urbana ha assicurato che la ditta interverrà il prima possibile per aggiustare il guasto Si celebra oggi la giornata mondiale della tassia una malattia rara di origine genetica a cui sabato 27 settembre sarà dedicato un convegno a cura dell'Aisa Onlus Oggi il 25 settembre è la giornata mondiale della tassia Spieghiamo che cos'è questa malattia di origine neurologica La tassia vuol dire perdita di coordinazione quindi mancanza di qualcosa in questo caso della coordinazione della contrazione dei muscoli Diciamo che vengono colpite aree del sistema nervoso che sono deputate a questo scopo quali il cervelletto, il mitollo spinale La tassia rientra in un pool di patologie che sono considerate rare ma perché considerate rare? Le malattie rare, essendo rare hanno tutte un'incidenza bassa nella popolazione quindi si parla in Europa di un caso ogni 2.000 ogni 5.000 quindi molto meno diffuse di malattie come il diabete o il cancro pur essendo così bassa la prevenenza le malattie rare a me sono tante e quindi nella loro varietà in realtà sono diffuse nella popolazione Sabato a Fano, Alta Gotel si tiene un convegno che parla proprio di questa patologia per fare un focus sulla situazione e sulla ricerca anche il punto sulla ricerca Esatto, in prossimità del 25 settembre appunto ogni anno organizziamo un convegno sulle sindrome tassiche e cerchiamo di coinvolgere specialisti locali e non e quest'anno appunto è itinleante nella regione Marche perché è promosso dalla sezione regionale dell'AESA l'AESA Marche e quest'anno si tiene a Fano Alta Gotel il convegno è aperto a tutti quindi si è rivolto sia ovviamente a pazienti o persone interessate direttamente o indirettamente a medici che vogliono aggiornarsi Alcune classi delle scuole fanesi aderiranno all'iniziativa Puliamo il Mondo 2014 domani infatti si daranno appuntamento per ripulire la spiaggia libera di fronte all'anfiteatro Rastat È la più famosa iniziativa di volontariato ambientale che ha l'obiettivo di pulire e di liberare da rifiuti le piazze, le strade, le spiagge e le aree verdi quindi da una parte la bellezza dell'Italia uno dei paesi più amati e visitati al mondo spesso sfregiato dall'incuria e dal degrado dall'altra l'impegno attivo di tante persone che vogliono rendere più belle e vivibili le città Quest'anno l'appuntamento con la ventiduesima edizione di Puliamo il Mondo è previsto per questo fine settimana tre giorni durante i quali migliaia di volontari tra cittadini, scuole e amministrazioni saranno impegnati nel ripulire le aree degradate del paese e compiendo un gesto concreto a favore dell'ambiente anche alcune scuole fanesi aderiscono all'iniziativa L'appuntamento Puliamo il Mondo nasce diversi anni fa grazie all'iniziativa in Italia di Lega Ambiente un appuntamento che si colloca nel contesto di Clean Up the World che è la più grande mobilitazione di volontariato ambientale a livello globale nel contesto italiano l'appuntamento vede la collaborazione anche di ANCI e dei ministeri dell'istruzione e dell'ambiente e nella nostra città si concretizzerà nel weekend 26, 27, 28 di settembre con un appuntamento che vedrà coinvolte le scuole cittadine in particolare venerdì 26 alle 9.30 verso l'anfiteatro Rastat ci saranno alcune classi delle scuole elementari gentile Corridoni di Fano che saranno impegnate a pulire un tratto di spiaggia libera è un appuntamento che vedrà il coordinamento di Fano Città dei Bambini insieme ovviamente all'assessorato ai servizi educativi e all'ambiente nonché la collaborazione di ASET i bambini poi avranno anche un'occasione diciamo così di svago una merenda che organizzeremo in collaborazione con i bagnini un appuntamento utile per questi ragazzi anche per poter scoprire il legame con la natura e l'ambiente circostante un nuovo fast food dedicato all'aviazione degli anni 30 è quello che inaugurerà sabato prossimo a Fano che darà lavoro a 12 persone credono nella città di Fano ed hanno voluto investire sul territorio con un connubio tra cibo campagna aviazione e storia dando così una grande opportunità di occupazione ad oltre 10 persone e la maggior parte giovani e creando un format unico nel suo genere nuovo economico e adatto a tutti con questa idea è nato Avioland novità del fast food vivace coinvolgente e gustoso dove il protagonista che accompagnerà i clienti nell'avventura è Avio un pollo cartoon che viveva in una dimensione parallela e che è stato catapultato nel mondo reale del pianeta Terra grazie a lui si avrà l'impressione di essere all'interno di un vero e proprio hangar tra la mire e cimili dell'aviazione dove compaiono delle trame a scacchi come diritto negli aeroporti maniche a vento che si gonfiano pezzi di aerei che sono stati raccolti nei cimiteri aeronautici e la cosa più accogliente è lo sfondo del locale il quale rappresenta un paesaggio rurale dove si intravedono aerei che effettuano spericolate acrobazie AvioLand si riconduce e si ispira fortemente totalmente all'aviazione alla Golden Age of Aviation l'aviazione degli anni 30 il periodo d'oro delle macchine volanti il periodo di massimo sviluppo il periodo più romantico dell'aviazione inoltre vi è una curiosa novità il Lucky Ride cioè la corsa fortunata e qui sta la vera acrobazia che potrà succedere in qualsiasi momento e in modo del tutto casuale Questi dieci minuti fortunati in cui chiunque si reccherà a ordinare qualcosa alla cassa riceverà in omaggio bibite piuttosto che dolci piuttosto che patatine e altre portate Avete dato anche la possibilità a tante persone di trovare lavoro? Sì diciamo che in questo momento di crisi abbiamo fatto questo grosso investimento abbiamo avuto un riscontro di tantissimi curriculum che ci hanno consegnato e adesso abbiamo assunto per il momento 12 persone e speriamo di poter assumere altre che il lavoro diventi importante in maniera da ampliare ancora il nostro servizio il nostro personale Il cibo ispirato alla ristorazione americana è basato su prodotti genuini anche vegetariani adatti a tutti i palati da quelli dei bambini a coloro che prestano attenzione alla linea e in base alla comanda del cliente le pitanze verranno preparate al momento esaltandone la qualità Comunque il nostro prodotto principale è il pollo è un prodotto comunque che è locale è sempre nel nostro territorio viene acquistato fresco e lavorato da noi e tutto quello che è verdura e frutta che usiamo nelle nostre ricette lo acquistiamo qui da un fornitore di Fano così come il latte le uova e tutti i prodotti freschi che ci servono Il taglio del nastro per inaugurare ufficialmente il nuovo locale all'interno dello Sport Park di Fano avverrà sabato 27 alle ore 16 Il telegiornale finisce qui grazie per averci seguito arrivederci a domani a domani a domani a domani Grazie a tutti.